eccoci di nuovo tornati a se solo ne parlassimo e me solo per pochissimi pochissimi minuti perché siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che insomma a me è volata tantissime le domande le risposte che abbiamo dato questa sera perché l'obiettivo nostro è proprio quello essere una sorta di consultorio per liberarvi da tabù chiarirvi qualsiasi dubbio vogliate appunto esporci permettetemi di ringraziare nuovamente i nostri i miei nuovi compagni d'avventura il dottor roberto bernorio sessuologo ginecologo e psicoterapeuta la dottoressa alice natoli psicologa e il dottor alberto caputo sessuologo e psichiatra io vi ricordo i nostri riferimenti il numero di telefono per lasciare i vostri messaggi lo 0 2 3 3 2 1 3 2 1 4 e l'indirizzo mail se solo chiocciola odion tv punto net io vi ringrazio moltissimo ci avete scritto telefonato veramente in tantissimi in questi giorni quindi continuate a farlo è nel vostro e nel vostro interesse allora alla prossima settimana con se solo ne parlassimo buonanotte ciao sono andata ciao un problema ciao buonasera mi chiamo Grazie per aver guardato il video.